Come annunciato nei giorni scorsi dalla società, il Pineto è effettivamente tornato sul mercato proprio per far fronte ai numerosi infortuni che hanno attanagliato soprattutto tra i centrocampisti la formazione bianca-azzurra in questo avvio di stagione in salita e oggi pomeriggio, proprio qui al Mariani Pavone, sono stati presentati i due nuovi arrivati. Si tratta del centrocampista Ezechiel Straccia, ex Giulianova e del centravanti Ragazzu, ex Jesina ma conosciutissimo al calcio d'Abruzzo per aver indossato nel corso della sua brillante carriera le casacche di L'Aquila, Sant'Egidiese, Morro d'Oro e San Nicolò. Purtroppo i tempi di recupero dei centrocampisti sono abbastanza lunghi forse riusciamo a recuperare Giuseppe Rachini però Giuseppe viene da otto mesi in attività con un crociato rotto quindi sicuramente non sarà brillante nelle prime gare Logoluso ha almeno un altro stop di 20 giorni Marfia ne avrà per un mese e quindi il Pineto non può andare avanti giocando con un solo cernocampista di ruolo anche perché Esposito da solo non può reggere un cernocampo in una squadra di Serie D Purtroppo adesso valuteremo il perché di tutti questi infortuni muscolari con i tecnici e vedremo insomma di cercare almeno di prevenire per il prossimo futuro Con Ezechiel Straccia uno dei due nuovi arrivati oggi qui a Pineto Sì, sono al centino, ho giocato l'anno scorso in Giulianova ho arrivato oggi qua a Pineto, sono contento Mi hanno chiamato il procuratore, mi hanno detto che è una società buona quindi ho accettato e sono qua Stai bene? Sei pronto eventualmente anche per poter giocare domenica? Sono pronto, penso che sì, quello lo deve veder il mister, no?